Nel cuore della Palestina, Betlemme, solitamente radiosa e viva in vista delle festività natalizie, è immersa in un'atmosfera di profonda tristezza e compassione. Questa città, famosa per la Basilica della Natività e la sua storia millenaria legata alla nascita di Gesù, è oggi il palcoscenico di un dolore inimmaginabile, un dolore che oscura i festeggiamenti solitamente brillanti di questo periodo. L'albero di Natale, solitamente adornato di luci scintillanti, non troneggia più nella piazza della Mangiatoia di fronte alla Basilica della Natività. Le luminarie e gli addobbi che solitamente rendono Betlemme un luogo magico durante il periodo natalizio sono stati cancellati. Una decisione presa dalle autorità locali, un segno di rispetto e solidarietà verso i martiri e il popolo sofferente di Gaza, teatro di una guerra che ha portato via innumerevoli vite. Le parole delle autorità palestinesi dipingono un quadro di dolore, rabbia e sconvolgimento. In un momento così cupo e travagliato, i festeggiamenti sembrano non avere più spazio. Quest'anno, Betlemme abbraccia il lutto e la tristezza, inviando un messaggio di unità nel dolore a tutto il mondo. La mancanza di turisti è evidente. Compagnie aeree hanno cancellato voli e pacchetti vacanza, le strade sono deserte, e i commercianti che dipendono dal turismo per sopravvivere vedono il loro sostentamento svanire. Padre Ibrahim Faltas, custode della Basilica della Natività, riflette sulla situazione attuale attraverso un prisma simbolico, il deserto della Giudea, la solitudine di Gesù e ora Betlemme isolata dall'assedio. Spera che questa guerra possa terminare dopo 40 giorni di dolore, come un rito di passaggio verso la pace, ma la realtà è cruda. Mentre si discute su tregue umanitarie di poche ore, lui, come molti altri, vede il costo umano devastante di questa guerra. Non vede solo numeri e statistiche, ma sofferenza, distruzione e la mancanza di protezione per la vita, un concetto sacro ribadito dal Papa. La comunità di fedeli si è assottigliata nel corso degli anni, un segno della complessità e delle sfide che Betlemme affronta. Da un'epoca in cui gli abitanti cristiani erano la maggioranza schiacciante, si è arrivati a una percentuale minima. Il cambiamento è evidente, una testimonianza della storia dolorosa e mutevole di questa antica città. Betlemme, quest'anno, si erge come un simbolo di dolore con la speranza di pace e di un futuro migliore. Tra le strade vuote e le luci spente, si aggrappa alla fede e all'auspicio che presto possa tornare a brillare come luogo di pace e di gioia, celebrando il Natale nell'ombra di una guerra che spera ardentemente possa cessare.